Salve, sono Marco Montanari, vedremo in questo breve filmato un'applicazione delle tecniche di integrazione fasciale attraverso l'uso del respiro e del movimento, è una tecnica a pressione che rimane a punto fisso sul muscolo trapezio e romboide. Perché è una pressione. Così impariamo anche una cosa nuova, a rilasciare soltanto attraverso una pressione. E poi gradualmente scendiamo, andiamo verso i romboidi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.